Sì C'era la mia andata che non c'era l'assolamento di nessuno Mi metto il piumino e salgo lì nel... E' esatto Nel cofano Guarda come si faccia le corinze C'è guarda ancora Ah questa l'avresti dovuto a firmare Eh la sto firmando No da fuori Ah 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 Questa guarda come si C'è vai 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 Qua